Ristorante di Bologna riprende i clienti a loro insaputa. Onestamente sono un po' perplessa. Perché? Perché l'immagine di una persona è un dato personale e la regola base vuole che i dati personali debbano essere trattati con il consenso espresso dell'interessato. Quindi un conto è quando io mi faccio una foto, la carico sui miei profili social e specifico dove sto cenando. Un altro conto è quando il ristoratore, a mia insaputa, mi fa una foto e la pubblica sui propri profili social. Se non ha il mio consenso sta compiendo un'irregolarità. Quando non occorre il consenso, non occorre in determinate specifiche circostanze come ad esempio quando la persona è una persona nota oppure per necessità di giustizia o di polizia oppure quando quelle riprese riguardano fatti, avvenimenti di interesse pubblico o avvenuti in un luogo pubblico. Buona giornata a tutti. Ciao.